Le hanno negato un medicinale e lei si è infuriata prendendo a pugni la postazione del farmacista. Alla fine la donna è stata denunciata, protagonista della Vicente, una cinquantenne piemontese. Giorni fa si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale infermi di Rimini per un problema dal G al braccio e per il quale il sanitario le aveva prescritto un farmaco antidolorifico. Durante l'attesa del proprio turno, nell'area della farmacia, la donna avrebbe mostrato già i primi segni di nervosismo. Situazione gestita dal personale della farmacia, ma dopo mezz'ora, alla notizia che non poteva avere il farmaco per momentanea indisponibilità di magazzino, ma informata che avrebbe avuto ritirarlo presso qualsiasi farmacia convenzionata con il sistema sanitario nazionale, la donna ha dato in escandescenza ed ha iniziato ad urlare e a sbattere i pugni contro la postazione di lavoro del farmacista e sulla stampante alzandole facendola ricadere sulla schivania, minacciando anche di aggredire il personale se non avesse avuto il medicinale. Sembra che il gesto però non sia riconducibile al disservizio della farmacia, visto che la donna aveva una dipendenza da stupefacente, in piccola percentuale quello contenuto nel farmaco che aveva richiesto con tanta forza. È stato chiesto l'intervento degli agenti del posto di polizia dell'ospedale infermi, che hanno riportato la calma e denunciato la donna per interruzione d'ufficio o servizio di pubblica necessità.